Buon luglio 2019 a tutti quanti i nostri ascoltatori di Piazza della Libertà, questo nuovo podcast che riprende dopo qualche giorno di pausa nella speranza di tornare con delle cose già fatte, cose già avvenute, cose già annunciate e quando parliamo di cose, parliamo ovviamente di calciomercato, di affari, di acquisti, purtroppo ci ritroviamo ancora senza nessun acquisto ufficiale, ma siamo fiduciosi soprattutto perché si sta lavorando, la società sta lavorando non solo per questa società ma anche per l'altra società che è la Salernitana perché a meno la Salernitana un annuncio lo ha fatto, è quello del nuovo allenatore che è Ventura, lo scrive il Corriere della Sera e Lottito porta Ventura a Salerno, Menichini candidato alla Primavera Bianco Celeste, Lottito ha scelto Ventura come allenatore della sua Salernitana che si è salvato i rigori nel play-out dalla retrocessione in C, il presidente in passato voleva portarlo alla Lazio, poi ha caldeggiato il suo approdo in nazionale dove è naufragato con la storica eliminazione dai mondiali 2018, l'anno scorso Ventura ha allenato per quattro carri il chiave in A, quindi si è dimesso, ora torna al posto di Menichini che potrebbe finire sulla panchina della Primavera della Lazio, quindi come vedete sono collegate le cose di Roma e Salerno, quindi le due città e quindi le due squadre, Lazio e Salernitana intanto per quanto riguarda la Lazio siamo in attesa di questi tre acquisti, che non sono in un giorno, i sei acquisti in un giorno di una volta o in nove, non mi ricordo neanche più quanto erano, i tre acquisti che sono quelli più vicini sono Lazari, Vavro e Gioni, prende forma la Lazio di Inzaghi, ma a centro campo ha ancora tanti rischi, questo articolo di Stefano Gresti sul Corriere della Sera, Milinkovic a Savic e Luisa Alberto in bilico, cercasi punta da affiancare immobile, ecco parleremo proprio di questa punta che deve venire al posto di Caicedo che però è ancora lì, non sembra muoversi, intanto leggiamo alcuni passi dell'articolo di Stefano Gresti, poi faremo un salto sugli altri giornali che oggi parlano di Lazio, il mercato apre oggi, almeno in via ufficiale, si chiuderà il 2 settembre, ci sono due mesi pieni per costruire una Lazio da Champions, intanto con la fine della stagione scorsa fissata il 30 giugno, il club bianco celeste ha visto interrompere in via definitiva i rapporti con tre giocatori, tutti i difensori e uomini di fascia, sono scaduti i contratti di Basta e Caceres e il prestito di Romulo, come sta nascendo la nuova squadra? Cerchiamo di capirlo, reparto per reparto, difesa, non sono attese sorprese per i portieri, Stracoscia più Proto, Radu è stato messo alla porta e sta cercando squadra, soluzione complicata perché la Lazio gli abbia concesso la possibilità di liberarsi, benché la Lazio gli abbia concesso la possibilità di liberarsi a zero. Partirà anche Wallace e in dubbio Bastos, entro pochi giorni dovrebbe concretizzarsi l'acquisto di Vavro dal Copenhagen, un inserimento che viene ritenuto importante anche per la spesa, almeno 8 milioni più 2 di bonus. Se il Slovacco confermerà le aspettative, in patria lo chiamano il nuovo Skriniar, nell'intenzione di Inzaghi il terzetto titolare dovrebbe essere composto proprio da Vavro sul centro-destra, Luis Felipe in mezzo e Acerbi sul centro-sinistra. Lo spostamento permette a quest'ultimo, unico mancino del reparto, di dare maggiore sostegno all'azione offensiva. Se poi l'esperimento, già provato più volte nell'ultima stagione, non dovesse funzionare, si tornerebbe alla disposizione precedente. Arriverà comunque un altro difensore, potrebbe essere il brasiliano Bruno Viana dello Sporting Braga. Poi il discorso centro-campo, ci scrive Agresti, è il reparto nel quale ci sono i maggiori rischi, perché probabilmente perderà il suo giocatore migliore. Milinkovic e Savic, sembra destinato al PSG. Il problema è che adesso diventa in dubbio anche la conferma di Luis Alberto, il quale continua a flettare con il Siviglia, irritandolo Tito. Se partissero entrambi, si aprirebbe una voragine, altrimenti lo spagnolo verrebbe utilizzato come interno accanto a lei. Va e a un giocatore a scelta tra parolo, però è avanti con gli anni, Beriscia, tornerà quello di Salzburgo e un nuovo acquisto. Tra i candidati, attenzione agli alzici del Trapsonspor, anche se è azzardato a ritenerlo subito in grado di raccogliere le reddità di Milinkovic e Savic, il quale, peraltro, ha caratteristiche uniche, quasi impossibili da trovare in un altro centrocampista. Perciò Inzaghi, nel caso in cui Sergei se ne andasse, dovrebbe studiare un modo di giocare differente là in mezzo. Sulle fasce, già oggi potrebbe essere il giorno di Lazzari e Dicioni, sono i titolari disegnati. E infine l'attacco, immobile il punto fermo, corre alla spalla ideale. Caicedo vuole andarsene per firmare l'ultimo contratto importante della carriera e occorre quindi un sostituto adeguato. I nomi più intriganti portano a Petagna e Crutò e Crudrone, però hanno costi elevati, quasi 20 milioni il primo, attorno ai 25 il secondo. Spese eccessive per la Lazio di Lotito, sempre che la cessione di Milinkovic e Savic, non spinge il Presidente a rivedere le sue abitudini. Il Corriere dello Sport riprende dove abbiamo finito l'articolo del Corriere della Sera, cioè l'attacco. Questa mattina il titolo è Lazio è caccia al vice immobile, Inzaghi vorrebbe tenersi stretto. Caicedo, la società biancoceleste, cerca di convincerlo a restare. Ecco alcuni dei profili seguiti per l'eventuale sostituzione. I profili sono questi. Waldschmidt, gioiello tedesco, si è consacrato agli europei under 21. Petagna, soluzione italiana, piace Inzaghi, valutazione alta. Poi abbiamo Urtado, è venezuelano classe 2000, punta veloce. Tosun, profilo, esperto, lascia l'Everton, sogna il riscatto. E queste sono appunto le opzioni che ci dà il Corriere dello Sport questa mattina, parlando delle alternative appunto a immobile. Questi sono ovviamente dei nomi che ci dà Daniele Lindone, che ci introduce al pezzo che poi potrete leggere ovviamente in edicola, Caicedo Via, si dice da due anni, non è mai successo, è in partenza anche in questa estate. Stavolta, per sua volontà, il Panterone va a caccia di un contratto ricco da 3 milioni. È in scadenza nel 2020, è allettato da proposte cinesi e arabe. Inzaghi e Tare provano a convincerlo a restare, finora non ci sono riusciti. Da due anni il Panterone è in partenza, da due anni si cerca un vice immobile, per due anni si è trattato Wesley, passato la storia come l'acquisto più volte fallito. Il brasiliano è stato in ballo anche tra maggio e giugno, alla fine è andato all'Aston Villa, operazione da oltre 25 milioni di euro considerando tutti i costi. La caccia al vice Ciro è ripartita tra tante incognite. Tare valuta alcuni profili tenendo aperta la possibilità di strappare il SIA a Caicedo, offrendogli un adeguamento economico, ma non nell'ordine dei 3 milioni in gaggio riconosciuto a Immobile e a Milinkovi. Ciro ad uno del 9 luglio si avvicina, l'Equadoriano deve dare una risposta. Se continuerà a rifiutare la permanenza, la Lazio non potrà fare altro che cercare un sostituto. In questa pagina descriviamo quattro profili, tre esteri, uno italiano. La Lazio, per acquistare un nuovo attaccante, ha bisogno di almeno 15 milioni. Servono per rintracciare un giocatore pronto o in ascesa. Ce ne occorrono di meno per puntare su un giovane semi sconosciuto. Inzaghi aspetta un centravanti pronto, questa è la sua indicazione. La Lazio deve risolvere il Rebus Caicedo, intanto ha fissato il prezzo del Panterone, 8-9 milioni. In settimana si cercherà di definire la strategia che riguarda l'attacco. Un ultimo assalto all'Equadoriano, poi l'assalto al successore. Quindi ricordiamo i nomi che ci propone il Corriere dello Sport sono Val Schmidt, Petagna, Urtado e Tosun. Sempre dal Corriere dello Sport abbiamo un altro titolo, Lazio e il Tris da chiudere. Come diceva il Corriere della Sera, la settimana di Gioni, Vavro e Lazzari. Il club conta di definire le operazioni. I giocatori sono pronti a partire. Gioni deve firmare per Vavro e Lazzari ultime distanze tra le società. Intanto Pedro Neto è felice, il Benfica è un'opportunità importante, ricordiamo è tornato in Portogallo. Poi l'ultima pagina dedicata alla Lazio, sempre dal Corriere dello Sport. La Lazio e Cataldi, rinnovo e ritiro. In settimana nuovo incontro tra la società e il manager Riso. Si cerca l'accordo prima della partenza per Auronzo, altrimenti sarà Diob. Restano da colmare distanze economiche, il centrocampista libero tra un anno. Ricordiamo ovviamente che la Lazio inizierà il suo ritiro il 12 di luglio ad Auronzo di Cadore. Durerà fino al 26 luglio. Poi ci sarà la solita parentesi a Marifeld dal 4 al 9 di agosto. Queste erano appunto le pagine dedicate alla Lazio. Intanto vi rimandiamo alle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter. Ovviamente agli nostri episodi che potrete trovare su Spotify, Apple e Springer.com. Cristiano Sala vi saluta, vi ringrazia e vi rimanda al prossimo episodio di Piazza della Libertà. Grazie a tutti.